Ben trovati amici, l'appuntamento con l'informazione di Tele Iblea. Dobbiamo aprire parlando di pioggia, c'è nel senso che non c'è la pioggia. Avremmo bisogno, come mi ha detto oggi un tecnico, avesse un bisogno di una settimana di pioggia, pica pica, pico pico, piove pico pico. Invece purtroppo non è così, da un certo punto di vista siamo contenti, non ci sono i problemi che hanno altre realtà, ma dall'altro punto di vista ci dobbiamo rendere conto che abbiamo delle gravi carenze dal punto di vista idrico. E questo è l'argomento con il quale apriamo il telegiornale, il problema dell'acqua a Ragusa. perché in alcune zone, e l'ho già detto tante volte, ma questa volta è un appello veramente accorato all'amministrazione comunale. Ultimamente molte zone della città, e parliamo della zona alta di Ragusa, vengono riforniti con delle autobotti. Questo problema delle autobotti però non è una cosa che può andare all'infinito. A parte che poi bisogna capire dov'è l'acqua, perché se questi grandi serbatoi che vedo alle mie spalle non vengono alimentati nel modo giusto, è chiaro che poi quest'acqua non c'è, e a distribuirla sarà un problema. A parte anche i costi, perché dovete sapere che tutta questa storia delle autobotti ha un costo, un costo molto grande. e quando magari si forniscono 40-50 autobotti al giorno, fatevi il conto che, mettetele come volete, ma 40-50 Euro costano al Comune, magari a noi cittadini ne costano 100, ma il Comune ha le sue convenzioni, quindi ha un costo particolare. Qual è la visione futura? Qual è? In questo momento non ci hanno dato nessuna aspettativa. È vero, ci hanno detto che collegando l'ASI, con i pozzi dell'ASI al serbatoio di Brucet, avremmo dovuto aumentare l'acqua. Ma mi hanno detto che quell'acqua già era utilizzata, quindi a levare e a mettere è sempre la stessa cosa. Qual è la strategia futura che secondo me bisognerà affrontare? Ci sono due cose che bisogna fare assolutamente. Una è inseguire le tubature per vedere dove l'acqua che viene distribuita a Ragusa si perde. Perché a quanto ho capito, ci sono due zone anche di più, ma per esempio nella zona del centro storico, che vuol dire dai salesiani fino ad arrivare sotto, diciamo tutta la parte vecchia di Ragusa, si ci danno 100 litri d'acqua al secondo, per dire, no? E là ci abitano poche persone. Alla fine non quante abitano nella zona di Brucet, dove ci sono 25-30 mila persone, alle quali diamo lo stesso 100 litri d'acqua. Che vuol dire che quei 100 litri d'acqua nel centro storico in buona parte si perdono. Perché, e l'abbiamo visto tante volte, l'acqua esce dalla strada, dalle tubature, compagnia bene. Allora bisognerebbe fare questi investimenti, recuperare la rete idrica nel centro storico e in qualche modo andare a trovare altre soluzioni per attingere l'acqua. Intanto dobbiamo dire che il Comune dice soldi per fare la rete idrica non ne abbiamo. Però vedete, l'altro giorno ho parlato del marciapiede che va per tutta la via Napoleone-Colaianni che dovrebbe essere risistemato con i fondi della Metropolitana. So benissimo che non si possono vendere i soldi della Metropolitana e usarli per un'altra cosa. Però cosa volete che gliene frega a un cittadino il fatto che il marciapiede della via Napoleone-Colaianni che già è tanto bello, no? Perché pochi ne abbiamo marciapiedi così buoni fino al passaggio di livello di via Pestum quando poi magari a casa non riusciamo a lavarci la faccia. Quindi queste cose fanno gridare. Dice dobbiamo trovare una soluzione. Allora, il fare dei mutui per realizzare la rete fognaria o idrica, fare dei mutui da parte del Comune per investire in qualità della vita non è un debito. Cioè, questi non sono debiti. Investire per migliorare la qualità della vita non è un debito. Ma come è un mutuo che abbiamo pagato tra dieci anni? Ma non è un debito, è un investimento. È come la macchina. Se tu fai il tassista e spendi 20 mila euro, 30 mila euro per comprarti la macchina e fai il tassista, non è un debito. È una spesa di lavoro. Ti serve per vivere. Di conseguenza, l'invito che faccia l'amministrazione comunale è proprio questo. Troviamo le soluzioni investendo, magari facendo dei mutui, magari trovando altri pozzi, magari facendo altri... Perché se continua così, noi fra qualche mese ci troveremo come alcune città, anche siciliane, dove l'acqua non la vedono mai. E questo è molto preoccupante. Quindi un invito caloroso all'amministrazione di non prendere sotto gamba il problema dell'acqua. Perché noi a Ragusa non siamo abituati, l'ho detto tante volte, e anche questo binomio che è essenziale, spazzatura e acqua corrente. Se in una città va male la spazzatura, va male l'acqua corrente, ci troviamo in zona declarata. Cambiamo argomento e parliamo di beni culturali. Il Presidente della Regione, il Presidente Musumeci, come avete sentito, sente davvero odore di elezioni e in qualche parte cerca di inventarsi delle situazioni per poter uscire allo scoperto. Ora, in questa conferenza stampa ha fatto una cosa particolarissima. Praticamente, poi io ve lo spiego prima perché poi sentirete le sue note esultanti. Cosa ha fatto? Ha fatto un accordo con una società per un progetto di project financing per il quale ci sono circa 20-25 milioni di Euro per l'efficientamento energetico di ben 91 siti che hanno un interesse culturale, archeologico nel territorio siciliano, 91. Di questi 91, noi pensiamo di avere tanto dal punto di vista archeologico, ben 3 sono in provincia di Ragusa, quindi meno del 3%. Questi siti sono uno e mi pare che uno è la sovrintendenza, certamente, l'altro è Camarina, ah e forse la Cotta e le Trabacchie, un altro posto, la Cotta e le Trabacchie non c'è già niente. quindi un altro posto per il territorio di Ragusa, ma qual è il trucco? Il trucco è che questa società che gestirà questo efficientamento per 30 anni e passa avrà la gestione di impianti di riscaldamento, cose e compagnia bella. Quindi che vuol dire? che è un business molto grande e qualcuno lo ha subodorato e si ci è messo a disposizione. Dice il presidente Musumeci che noi stiamo risparmiando ed è una manna dal cielo. Io credo che in queste cose se ci sono i project financing e qualcuno ci mette i soldi è perché naturalmente ci vede il sugo, ci sente il sugo. Sentiamo ma vostra diciamo Zumeci.